Ciao a tutti, è il vostro amico cantautore della provincia di Parma, Angelo Bettati. Oggi con questo video vi faccio sentire in acustico la prima parte della canzone Il grande bambino che ha dato vita alla canzone completa Natueia. Ve la faccio sentire così come è stata partoretta in origine per farvi un'idea. E se avete la possibilità condividetela con i vostri amici e conoscenti. Un giorno ad un muretto, quel tale come tanti, appoggia alla chitarra la sua età. Veste d'animai di peccato, mescola nel canto il suo dolce amaro. Dice vuoi teneramente, correrei dietro agli errori, perdi solo il tempo e si diventa coglioni. Pagali se puoi i sbagli di volontà. E' da meditare. Con questo è tutto, buona continuazione di giornata, al prossimo video e alla seconda parte. Ciao!